Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Io appunto sono già stata presentata, quindi non perdo tempo a raccontare chi sono. Aggiungo solo una nota biografica. Io faccio volentieri questi incontri, insomma parlo volentieri di questo tema nel raccontare chi sono, in particolare le persone senza dimora, perché nella mia vita le persone senza dimora sono entrate all'inizio della mia attività professionale. Io sono una psicologa, opero ormai da 27-28 anni su queste tematiche a Torino e anche a livello nazionale e internazionale e devo dire che l'incontro con le persone senza dimora è stato quello che ha generato un grosso movimento emotivo dentro di me. Io non sono più riuscita, dico spesso così, a liberarmi dal stare vicino, a seguire, accompagnare le persone senza dimora. È una sfida, una sfida molto importante che da quando sono diventata presidente della federazione ho voluto lanciare che è la sfida del riconoscere la condizione di senza dimora come una condizione che con una affermazione molto forte abbiamo definito crimine contro l'umanità perché di fatto il vivere per strada è una delle condizioni più degradanti che le persone possono vivere e abbiamo lanciato una campagna che abbiamo definito homeless zero che vuol dire che nessuna persona in una società civile avanzata come quella che noi oggi definiamo l'Europa e l'Occidente deve vivere per strada. Questo ovviamente riguarda la condizione di estrema deprivazione, di assoluta deprivazione anche appunto della condizione di una situazione di sicurezza dentro cui vivere. Perché racconto questo? Racconto questo perché quando io ho iniziato a occuparmi di persone senza dimora mi sono sempre immaginata insomma una giovane psicologa neolaureata che avrei incontrato quello che per noi è il classico stereotipo della persona senza dimora, persona anziana, molto malmessa, piena di sacchetti, di borse, magari un po' fuori di testa e devo dire che invece ho incontrato un'umanità molto molto diversa da quella che appunto mi aspettavo e da quello che è lo stereotipo che normalmente abbiamo delle persone senza dimora. Come federazione, la FIOPS è una federazione nazionale che raggruppa appunto gli enti che si occupano di persone senza dimora a livello nazionale e cerca di fare delle azioni soprattutto di raccolta culturale, di informazione, di sensibilizzazione al tema quella che viene chiamata oggi con questi termini inglesi advocacy e lobby nel fare queste azioni appunto che io preferisco chiamare un po' di sensibilizzazione abbiamo condotto insieme a Istat e al Ministero del Lavoro un'indagine a livello nazionale per capire chi sono queste persone perché voi spesso li avrete sentiti definire gli invisibili c'è stata anche una famosa trasmissione tempo addietro che li aveva proprio chiamati così che si occupava di loro insomma gli invisibili sono queste persone che spesso non vogliamo vedere che sono molto evidenti perché incrociarle per strada vederle abbandonate negli angoli delle strade non è possibile non vederle ma di fatto sono persone che molto spesso sfuggono alla presa in carico dei servizi sfuggono a una conoscenza più approfondita di chi sono, quanti sono come facciamo a contarli, come facciamo a sapere quali storie ci sono dietro le vite di queste persone il tentativo l'abbiamo appunto fatto in collaborazione col Ministero e con Istat quindi parliamo di una statistica nazionale è stato un lavoro bello, importante e che ci ha permesso di iniziare ad avere una prima fotografia questi dati che adesso vi presenterò sono dei dati purtroppo non troppo recenti nel senso che risalgono alla fine del 2015, inizio del 2016 come tutti voi sapete gli anni successivi sono stati anni di una grossa crisi ulteriore che ha impoverito ulteriormente la popolazione fino ad arrivare a questa che è stata appunto l'emergenza insomma questa pandemia sappiamo bene che ha reso ancora più difficili le condizioni di vita delle persone che già vivevano in condizioni difficili quindi col Ministero proprio in questi giorni stiamo programmando un aggiornamento di questa ricerca per andare a vedere oggi chi sono però iniziamo a partire da quello che abbiamo visto qualche anno fa e che sicuramente inizia già a dirci delle cose adesso in questo magico modo aspettate no ho già sbagliato arrivo eh adesso devo solo partire la presentazione ecco qui eh no oh signora allora ovviamente doveva andare quasi tutto bene dall'inizio ok ci siamo non me lo lascia fare va bene provo a condividere vediamo cosa viene provo a condividere lo schermo non so se mi fa fare la vera presentazione proviamo un po' allora allora sì perfetto mi confermate che riuscite a vedere il mio schermo vero? allora eh questo è appunto è quello che è emerso dall'indagine delle persone con le persone senza dimora già le foto e quindi il modo che abbiamo di rappresentare la condizione delle persone senza dimora vi fa vedere un universo complesso un universo composito prima di tutto eh andiamo a definire che cosa vuol dire essere senza dimora questa è la definizione che abbiamo dato nel momento in cui abbiamo scritto delle linee di indirizzo che a livello nazionale definiscono il fenomeno e definiscono eh gli interventi che possiamo fare a favore di queste persone eh il fenomeno della homelessness non è semplicemente un fenomeno che si esaurisce a quelli che vengono definiti bisogni primari cioè gli diamo da mangiare, gli diamo da vestire ma è un fenomeno estremamente complesso che porta dietro di sé degli aspetti relazionali, emotivi, affettivi delle situazioni sanitarie molto molto complesse e quindi richiede un intervento che va su molti livelli in Italia sono stati contati come circa 50.000 persone a cui se ne aggiungono almeno ancora un migliaio che sono completamente sconosciuti quindi non sono neanche stati contati come vedete sono quasi in prevalenza uomini anche se devo dire che negli ultimi anni la percentuale delle donne è aumentata sono quasi a metà tra italiani e stranieri quindi questa descrizione dell'homeless spesso lo straniero, spesso la persona immigrata che cade in povertà in realtà i dati non confermano questo stereotipo e questa tendenza invece degli ultimi anni ci dice che sono aumentati notevolmente insieme alle donne anche gli italiani che sono in questa condizione sono molto di più al nord ma questo è anche spiegato dal fatto che al nord ci sono più servizi e quindi questi servizi fanno un po' attrazione per persone che non hanno nulla e che quindi devono ricoverarsi devono mangiare, devono lavarsi e la presenza di servizi indubbiamente crea un po' un effetto attrattivo e nel 76% dei casi vivono da soli questo vuol dire che quella fettina che non vive da solo e di nuovo anche qui quella fettina negli ultimi anni si è molto allargata indica famiglie quindi o coppie o addirittura in tanti casi si iniziano a intercettare famiglie con minori e questo è un fenomeno che è partito negli anni scorsi soprattutto al sud dove purtroppo non si riuscivano a dare risposte neanche emergenziali alle famiglie e che si sono trovate a vivere in condizioni assolutamente precarie nelle tende, nei camper, nelle macchine questo è una tendenza che registravamo già dalla prima alla seconda indagine quindi la prima indagine nel 2011 inizio 14-15 la tendenza all'aumento come vi dicevo questa tendenza all'aumento degli italiani delle donne e delle famiglie è ulteriormente visibile oggi nei servizi quindi i servizi si trovano sempre di più a dover rispondere a italiani a donne e a situazioni di tipo familiare c'è poi questo aspetto per cui abbiamo tutta una fascia grigia insomma ormai è stata definita la povertà grigia ma che diventa sempre più scura sempre meno grigia in cui persone con dimora si rivolgono a messe e a servizi perché non sono più in grado di avere un reddito sufficiente al proprio mantenimento neanche alimentare questo lo sappiamo questa affermazione è un'affermazione che ci tengo a mettere ci tengo a citare anche se possiamo dire vabbè certo perché non è così come posso dire semplice di fatto far sì che questa che è un'affermazione di diritto cioè le persone senza dimora hanno i medesimi diritti e doveri di ogni altro cittadino che è un'affermazione che ognuno di noi sottoscriverebbe non è così facilmente praticabile nella realtà perché il fatto che ci siano dei diritti il diritto all'abitare il diritto alla salute il diritto alla sicurezza diventa tale se diventa esigibile cioè se noi possiamo dire ho questo diritto e quindi lo incontro la possibilità di renderlo esigibile cioè che questo diritto diventi effettivo se no non è un diritto i diritti che le persone tutte hanno e quindi anche le persone senza dimora nel momento in cui sono cittadini a tutti gli effetti è il diritto alla residenza la residenza è un tema fondamentale per le persone che vivono in strada è un tema fondamentale perché permette l'accesso a tutta una serie di altri servizi il diritto dell'alloggio quindi il diritto all'abitare ad avere una casa una struttura una protezione accessibile e sicura anche laddove si sa si sia in situazioni gravi dal punto di vista economico ma dove in qualche modo la povertà non deve diventare una colpa e questo è uno dei grossi temi su cui andiamo sempre un po' a scontrarci tra un'esigibilità teorica dei diritti e una impraticabilità di esigere questi diritti il diritto alla salute come vi dicevo e quindi il diritto ad essere ricoverati anche dopo ricoveri per situazioni gravi importanti in strutture che permettano il decorso le cose che io sto raccontando rispetto alle persone senza dimora per un cittadino normale sembrano ovvietà cioè ognuno di noi arriva a casa la sera chiude la porta sta tranquillo se vai in ospedale ritorna a casa queste persone non sono in grado di esigere nessuno e di praticare nessuno di questi comportamenti che per noi sono abituali dormire in un posto tranquillo ci sono persone che dormendo nei dormitori non dormono per davvero per anni perché il dormitorio comunque mediamente è un posto insicuro dove devi condividere la tua situazione di riposo con persone che sono persone strane sappiamo la situazione complessa del vivere in un dormitorio allora questo è quanto poi tutto questo materiale ovviamente a vostra disposizione potrete con calma rileggerlo e guardarlo e tutto anche sul sito della federazione io non vi lascerò una grande quantità di indicazioni perché andando sul sito della federazione troverete tutte le informazioni c'è una grandissima bibliografia ci sono informazioni e quindi da lì potrete trarre tutte le informazioni che vi servono stiamo raccogliendo anche tesi di laurea stiamo raccogliendo scritti poi insomma adesso vi racconterò altre cose da cui potrete raccogliere informazioni questa spaccato molto veloce questa carrellata mi serviva per dirvi e raccontarvi chi sono le persone senza dimora e per anche sostenere questa affermazione che sembra molto forte in cui appunto dichiariamo che l'essere senza dimora è una condizione disumana profondamente deprivante della dignità umana un crimine contro l'umanità lasciare che ci siano persone che vivono in queste condizioni ma chi è la FIOPS ecco ci tenevo a dirvi e a farvi vedere in breve provo di nuovo a condividere il mio schermo eccolo qua chi è la FIOPS e quindi chi è e cosa fa perché poi dall'analisi del fenomeno il percorso di oggi ci deve far arrivare a dire che cosa possiamo fare quali possono essere gli interventi che possiamo fare verso queste persone la FIOPS ha 131 soci attualmente è presente in 16 regioni in Italia e ha tra i suoi soci anche 62 comuni questa è una particolarità quello che noi crediamo è che queste politiche questi interventi a favore delle persone senza dimora debbano essere sempre fatti in una logica collaborativa con l'ente pubblico perché c'è un tema anche di assunzione di responsabilità rispetto alla presa in carico sociale che gli enti devono fare per i propri cittadini il volontariato il terzo settore può essere un ottimo collaboratore ma l'intervento per quanto è un po' la nostra politica deve essere sempre ricondotta a una dimensione collaborativa qui è un po' la storia della federazione nasce nell'85 fra l'altro nasce a Torino il comune di Torino è uno tra i soci fondatori della federazione e si occupa di questo fenomeno a livello nazionale e a livello vi dicevo internazionale in quanto rappresenta l'Italia nella rete europea di tutti gli enti che si occupano di senza dimora quindi anche la dimensione di rappresentazione rispetto a quella che è un'azione di lobby è fondamentale che ormai si ponga a livello europeo perché e lo vedremo i fondi con cui oggi affrontiamo il tema della grave marginalità della povertà arrivano dall'Europa e quindi è là che dobbiamo andare a fare anche azioni di lobby allora qui vi racconto quelle che possono essere alcune azioni di ricerca di studio che cosa fa qual è l'obiettivo della federazione la federazione nel tempo ha promosso tutta una serie di interventi proprio per provare a fare leva nel togliere le persone dalla condizione di vivere in strada quindi di essere del senza dimora e ha provato a lanciare una sfida che è stata quella dell'Housing First che adesso a breve vedremo e che vi racconterò come uno degli approcci più sperimentali più innovativi e che ha anche dato dei grandissimi risultati laddove è stato appunto implementato a Torino si sta lavorando su una cinquantina di case di Housing First per persone senza dimora e non è un numero piccolo un numero importante e questo ad esempio è proprio uno di quegli ambiti dove il volontariato la società civile può dare un grandissimo contributo un altro tema molto importante molto importante su cui come federazione stiamo lavorando è usare immagini e linguaggio rispettosi della dignità delle persone abbiamo lavorato per raccogliere le parole per raccogliere le foto per raccogliere un modo di raccontare la condizione di persone senza dimora che fosse rispettosa delle persone e fosse che rompesse un po' questi stereotipi l'immagine romantica del barbone del clochar per scelta ecco sono tutti stereotipi con cui continuiamo a raccontare i mass media in particolare continuano a raccontare questo tema per fare questo e per fare sostenere insomma questo famoso discorso della homeless zero quindi nessuna persona deve essere obbligata a vivere per strada abbiamo promosso una campagna che come vedete è stata sposata da tutta una serie di personalità del mondo dello spettacolo che ci hanno regalato gratuitamente la loro immagine per poter promuovere un'azione di sensibilizzazione ad ampio raggio che permettesse di arrivare anche alle fasce della popolazione che normalmente di questi temi non si occupano che normalmente vengono giustamente infastiditi dalla presenza di queste persone sul territorio questo è appunto la campagna nel zero e poi va bene qui non vi tedio la cosa importante di cui invece vi volevo parlare è che un modo per occuparsi di questi temi è anche fare cultura quindi sviluppare raccontare raccogliere azioni culturali che ci permettano di parlare di questo per fare questo abbiamo fondato una collana di studi con Franco Angeli che si occupa esattamente povertà e percorsi di inclusione sociale l'abbiamo voluta chiamare così e non c'era ancora una collana che raccogliesse dei temi proprio della povertà ci sono collane sociologiche psicologiche e quant'altro ma il tema della povertà è nucleato e quindi affrontato approfondito era ancora una uno spazio mancante nella panorama della produzione culturale abbiamo già pubblicato cinque libri nella collana e siamo in fase di pubblicazione del sesto e del settimo quindi abbiamo già in cantiere altri due libri che continuino a far parlare del tema delle persone senza dimora sono libri pratici operativi sono libri concreti sono manuali del fare vi segnalo che uno di questi che si chiama dal bisogno al desiderio è stato scritto da Valentina Porcellana e racconta la storia dei servizi per le persone senza dimora a Torino e quindi racconta un po' tutto quello che è successo negli ultimi vent'anni su questo tema a Torino poi ovviamente abbiamo agito durante il covid con tutta una serie di azioni più emergenziali azioni di attenzione a queste persone perché anche in questa situazione covid ovviamente le persone senza dimora sono quelle più esposte sono quelle più che devono affrontare le emergenze da soli perché si diceva stiamo tutti tutti a casa ma giustamente la prima osservazione era ma chi una casa non ce l'ha e quindi anche qui abbiamo lanciato una serie di azioni di sensibilizzazione e questo per volte sembra semplice dire stiamo tutti a casa ma veramente la banalità del non avere la casa rischia di diventare un enorme problema adesso per alleggerire un po' e non far sentire sempre solo me avevo piacere di farvi vedere un piccolo video che è un video che abbiamo prodotto per raccontare che cos'è l'housing first che cosa vuol dire prendere delle persone e metterle a vivere in una casa l'housing first vuol dire questo vuol dire abbiamo delle persone che vivono in strada le mettiamo in un posto sicuro in un posto protetto che si chiama casa adesso vediamo se tutto funziona e vi condivido questo video che appunto parla un po' da sé devo fare così e direi così datemi solo conferma bloccatevi se non si sente perché prima abbiamo fatto le prove ma spero funzioni non si non si vede Cristina per stima non lo vediamo prego non si vede non si vede e non si sente oh signore allora aspettate riproviamo allora accidenti era stata troppo ottimista riproviamo allora dovremmo mi ha fatto le prove e si vedeva allora riproviamo vediamo cosa vuol dire adesso libertà perfetto libertà è la cosa più bella che ci possa essere quella di pensiero quella di parola quella di poter essere incazzata arrabbiata cose felici oppure alzare la stella tutto colore se mi va cose che in comunità non potevo fare casa vuol dire gioia perché è tutto sai che se piove sei a casa sai se il bambino ha la febbre sei a casa la casa è la sicurezza nella vita la dignità della vita per la persona la casa significa dove può essere sicuro sicuro significa dove può essere rilassato come inglesi dicono che my home is my castle sono sicuro qua perché sono a casa così ecco questo adesso blocchiamo un attimo la condivisione ecco questo video racchiude fortemente no il messaggio che volevo lasciarvi l'idea che sono persone che come vedete sono persone abbiamo cercato di racchiudere un po' tutte le tipologie di persone che si possono incontrare per strada e l'idea è proprio quella che l'intervento cioè cosa possiamo fare noi per supportare le persone senza dimora si può si può fare si può includere si può fare un bel lavoro di accompagnamento a reinserirsi nella vita nella nostra società bisogna avere la pazienza dell'ascolto la pazienza dell'incontro ma contemporaneamente come vi dicevo sono interventi complessi che intervengono su delle dimensioni che hanno un raggio molto ampio che possono andare appunto da problemi anche di dipendenza di salute mentale e quindi la necessità di collaborare di rendere collaborativi gli interventi del terzo settore con gli interventi pubblici e questo credo che sia una delle strategie vincenti come federazione appunto come vi dicevo abbiamo lavorato anche a livello di lobby europea sono arrivati molti soldi in Italia ma in realtà in tutta Europa per lavorare su questi temi per la prima volta da appunto il ministero tre anni fa ha stanziato cento milioni di euro in tutta Italia solo per affrontare il problema delle persone senza dimora e li ha stanziati per far partire questi progetti di housing first il dovere dell'ente pubblico territoriale è far funzionare questi servizi e il pezzo lo spazio di collaborazione che è come privato sociale o come cittadini come associazionismo possiamo agire e esattamente il lavoro di collaborazione di una società inclusiva di una società che accoglie queste persone e permette loro di reinserirsi l'housing first si fonda su alcuni principi molto semplici l'housing first dice che tutte le persone hanno diritto a una casa sicura chiede di collocare queste persone non concentrate ma accompagnarle a reinserirsi in quartieri del territorio dove ogni cittadino ogni attore di questo territorio è chiamato a riaccogliere queste persone che sono state espulse di fatto in questo momento la nostra è una società molto espulsiva è una società che butta fuori chi non è in grado di stare al passo di stare al ritmo di stare nelle cornici e l'obiettivo dell'housing first è esattamente quello di non creare grandi concentrazioni ma di suddividere sul territorio le persone che vengono progressivamente accompagnate a un ritorno a una vita normale per quanto ognuno di loro può fare non è casa lavoro tante persone in questa condizione dopo anni di vita in strada non sono più in grado di partecipare a piena una vita attiva ma sono assolutamente in grado di ritornare a essere cittadini con dignità e questo è importante come vi raccontavo adesso a Torino stiamo facendo una cinquantina di casi di persone reinserite con questo con questa metodologia con questo spazio e i risultati sono incredibili vediamo delle storie che veramente commuovono e ti fanno vedere e ti fanno capire toccare con mano la grande sofferenza che c'è dentro questa condizione dell'essere senza dimora ma contemporaneamente il fatto che qualcosa si può fare per loro